Lei è Titti, ma oggi non c'è un po' di pranzi Puoi registrare, mangiare cipolle e fagioli vasiliari Benvenuti su Vasiliolanti Ottima ricetta No, no, no Non ce l'abbiamo qua No Ok, ok Che l'altro è giusto Se c'è una sessione, su di diretti Come, 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 come c'è un salto? Ciao Bye